Dal libro del profeta Gioele E i tini traboccano, poiché è grande la loro malvagità. Folle immense nella valle della decisione, poiché il giorno del Signore è vicino nella valle della decisione. Il sole e la luna si oscurano e le stelle cessano di brillare. Il Signore ruggirà da Sion e da Gerusalemme farà udire la sua voce. Tremeranno i cieli e la terra, ma il Signore è un rifugio per il suo popolo. Una fortezza per gli israeliti. Allora voi saprete che io sono il Signore, vostro Dio, che abito in Sion, mio monte santo, e il luogo santo sarà Gerusalemme. Per essa non passeranno più gli stranieri. In quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo e latte scorrerà per le colline. In tutti i ruscelli di Giuda scorreranno le acque. Una fonte zampilerà dalla casa del Signore. L'Egitto diventerà una desolazione ed Edom un arido deserto per la violenza contro i figli di Giuda, per il sangue innocente sparso nel loro paese, mentre Giuda sarà sempre abitata e Gerusalemme di generazione in generazione. Non lascerò impunito il loro sangue e il Signore dimorerà in Sion. Gioite giusti nel Signore Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Gioite giusti nel Signore I monti fondono come cera davanti al Signore davanti al Signore di tutta la terra annunciano in cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Gioite giusti nel Signore Una luce spuntata per il giusto una gioia per i retti di cuore Gioite giusti nel Signore Della sua santità celebrata il ricordo Gioite giusti nel Signore Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha lattato Ma egli disse Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano.